Benvenuto alla Perla Rara, la boutique principale delle Shellfish Corp. Acquista gusci. Conchiglione. Volano. Bartolomero. Salva Danaio. What the f***? Scarpetta. Prendi l'impostore. È a 96.000, non posso. Costa troppo. Acquista gusci. Potevamo sbloccare nuovi slot per amuleti, fare molteplici upgrade, roba simile. Noi abbiamo speso tutti i soldi per un singolo Among Us.